Suv Citroen C5 Aircross ha tutte le caratteristiche di un vero Suv. Ruote di grandi dimensioni, assetto rialzato da terra, protezioni per il sottoscocca, passaruota profilati, barri al tetto e una personalità che esprime potenza e protezione. L'inconfondibile stile Citroen è ben visibile da qualunque lato, a partire dal frontale, ampio e imponente, con i gruppi ottici su più livelli. Nel livello superiore i fari diurni e gli indicatori di direzione collegati agli Chevron, attraverso un doppio profilo cromato, subito sotto i gruppi ottici principali. Infine i fari pendinebbia sotto alla parte centrale del frontale, rafforzato dalle prese d'aria laterali e animato da inserti colorati che ne sottolineano il carattere. La fiancata potente e fluida è caratterizzata dagli ampie passaruote incorniciati da un profilo a contrasto e dagli airbump, che proteggono la carrozzeria e sottolineano il carattere di C5 Isle Cross. La parte posteriore del veicolo, ampia e a sviluppo verticale, sottolinea l'abitabilità e la spaziosità del bagagliare. I gruppi ottici in rilievo, con quattro moduli 3D a LED su ciascun lato del veicolo, creano una firma luminosa inedita, tecnologica e grafica. Un SUV tipicamente Citroen per il suo design, dà l'identità espressiva e audace per le linee fluide e protettive e per l'ampia possibilità di personalizzazione. Sono infatti previste 30 differenti combinazioni per la carrozzeria, grazie a 7 tinte, una proposta bicolore con tetto a contrasto black e 3 pack color, oltre a 5 ambienti caldi e luminosi per gli interni.